Sono i primi giorni di novembre, quelli tradizionalmente dedicati al ricordo dei cari defunti. A Padova, al cimitero Maggiore, sono arrivati cinque nonni vigile, angeli custodi per accompagnare le persone e rendere il luogo un ambiente di pace. Persone che accoglieranno, anzi che da oggi accolgono i cittadini all'ingresso, li possono accompagnare, che comunque gireranno il cimitero per dare una maggiore sensazione di sicurezza alle persone, di non sentirsi sole. Quindi attenzione su tutta la linea. 15 cimiteri cittadini, numerosi gli interventi in corso, a partire da quello di Granze, dove il Comune sta realizzando un nuovo modello di Camposanto. Un rifacimento che preveda la ghiaia tra le tombe per una maggiore cura e anche per una bellezza, una maggiore dignità del luogo e una parte a Prato, cosa che è stata apprezzata. È stato un po' un esperimento che abbiamo intrapreso grazie anche al supporto di alcuni altri comuni che già l'avevano fatto e che adesso si estenderà nel giro dei prossimi tre anni a tutti gli altri cimiteri, compreso anche al cimitero maggiore, dove già nei prossimi mesi passeremo a Ghiaia e rimetteremo un po' in ordine già i primi tre campi. Prolungati in questo lungo fine settimana gli orari di apertura in tutti i cimiteri della città. Gli orari come sempre sono dilatati dalle 7 alle 17 di tutti i giorni per il cimitero maggiore, dalle 7.30 alle 17 per i cimiteri dei quartieri, con un'attenzione per il maggiore all'accompagnamento in caso qualcuno non avvesse dei problemi di deambulazione e anche con la disponibilità ad aprire chiamando il numero che si trova su Padovanet i due ingressi posteriori. I numeri da contattare almeno un'ora prima sono il 335 699 3497 348 73 92 485.